Tutto lo sport amaranto che conta su Arezzo TV. Inizia il prossimo 5 settembre la nuova stagione sportiva della nostra emittente con la prima puntata della storica trasmissione a tutto campo giunta al suo diciassettesimo anno. A partire dalla prima squadra amaranto che con grandi ambizioni si è ripresentata al campionato ogni lunedì in diretta alle 19 e in replica alle 21, nell'informale studio di Fabio Frabetti si discuterà dell'ultima partita con analisi e commenti di protagonisti, tifosi e addetti ai lavori. Nelle prossime settimane torna il seguitissimo appuntamento per gli appassionati del calcio dalla Serie D alla terza categoria. Matteo Marzotti è pronto a farci rientrare nella sua zona di lettanti. Arezzo TV tornerà a seguire anche le partite delle giovanili amaranto. Dalla Beretti di Elvis a Bruscato ad allievi e giovanissimi ogni settimana vi proporremo la sintesi di una partita e analizzeremo le varie squadre e campionati in uno spazio di approfondimento il mercoledì sera alle 21. L'Arezzo calcistica è rappresentata anche dalla squadra femminile amaranto ripescata in Serie B. Arezzo TV trasmetterà la telecronaca delle partite interne della formazione allenata da Manuela Tesse e sempre il mercoledì sera analizzeremo in studio il campionato e la squadra amaranto. Non solo calcio continua infatti il lungo e felice legame con la scuola basket Arezzo. Ogni martedì alle 21 torna Carlo Benucci e la sua basket zone con partite e interviste dal mondo della SBA impegnata in un avvincente campionato. La prima puntata andrà in onda martedì 6 settembre alle 21 con gli Open Day della SBA. Non mancheranno inoltre incursioni anche nelle volle e altro sport che storicamente amiamo e seguiamo da numerosi anni. Le notizie di nostri eventi sportivi vi aspettano inoltre ogni sera all'interno della cronaca retina in onda alle 20 e 25 e all'interno del nostro portale www.arezzotv.net. La stagione è cominciata, vivila anche tu con noi lo sport amaranto che conta!